Dopo l'insubria che ha sferrato un brutto colpo d'arresto alla corsa dell'Alzano Cene verso la vetta della classifica, arriva il Renate. Quel Renate che infranse i sogni della promozione in seconda divisione dell'Alzano Cene ai play-off di fine maggio. Dunque un match importante che i seriani affronteranno guidati da Mister Ezio Morosini. Sicuramente è una di quelle partite importanti, nel senso che incontriamo sicuramente una squadra di un livello alto, una squadra che puntava e punta tuttora ancora ai primi posti della classifica. È un punto dietro di noi e noi cercheremo di fare quello che abbiamo fatto finora, a parte la partita con l'insubria, di riprendere il cammino che avevamo intrapreso. A parte Forlani che è ancora in fase di recupero, dovremmo avere a disposizione Fornoni che ha scontato le tre giornate ingiuste di squalifica. Dovrebbe tornare a disposizione Serafini che settimana scorsa era stato fermato dall'influenza e quindi dovremmo poter contare su tutto l'organico appunto a parte Forlani. Le dimissioni di Mister Roberto Crotti giunte alla società in settimana hanno sicuramente stupito, ma come si suol dire the show must go on e quindi nonostante le nostre provocazioni per saperne di più, l'attenzione è rivolta alla prossima partita. Il morale è alto, c'è una voglia di fare subito un pronto riscatto dopo la prestazione di domenica. Sappiamo di andare a incontrare una delle squadre favorite per la vittoria, era perlomeno favorita per la vittoria finale di questo torneo. Una squadra che sicuramente comunque punta ancora i playoff, una bella squadra. Ricordiamo che dentro giocatori importanti, dei nomi uno su tutti battaglino. Perciò sarà una squadra veramente da stare molto attenti perché diciamo che sarà veramente una partita difficile questa. Calcio mercato aperto all'Alzano Cene, interessa? Ma guarda queste non sono domande che devi fare a me, ma c'è un direttore sportivo e dovresti chiederle a lui. Io penso che la squadra vada bene com'è perché i ragazzi, ti ripeto, finora hanno fatto delle ottime prestazioni e non è certo la sconfitta di domenica che ci fa cambiare idea.